Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV e oggi per il nostro approfondimento in studio parleremo di uno degli eventi più attesi per la città di Fano e non solo che è diventata parte identitaria dal lontano 1347. Sto parlando del carnevale più antico e più dolce d'Italia, il carnevale di Fano e io do il benvenuto per l'approfondimento alla presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli e al vice presidente Stefano Mirisola. Ben arrivato in studio. Bentrovati. Bentrovati e buon carnevale. Si dice che a carnevale ogni scherzo vale ma qui quest'anno non si scherza per niente presidente. Un'edizione straordinaria fuori da ogni schema e da ogni limite. Sì quest'anno vogliamo proprio disturbare, vogliamo proprio dare fastidio e già abbiamo cominciato. Ma questo perché? Perché il carnevale è il periodo dell'anno in cui si può tutto, in cui nella tradizione il potere veniva destituito e il popolo poteva dire e fare ciò che voleva. Quindi quest'anno abbiamo voluto recuperare questo tipo di tradizione e quindi insomma c'è un programma abbastanza vario e anche scomodo ma sempre ovviamente in forma goliardica. Del resto il carnevale è la massima espressione per prenderci un po' poco sul serio e dare possibilità anche di dimostrare cosa ci turba nella nostra società. Quest'anno lo facciamo con uno dei carri insomma che prende un po' spunto da quello che è successo insomma il volto della madrina. Quest'anno sarà Beatrice Venezzi a cui è stato dedicato un carro. Sì è vero Beatrice Venezzi è il maestro, il direttore di orchestra che a Sanremo osò dire chiamatemi maestro e non maestra e lì si scatenò un putiferio e quindi quale miglior madrina per disturbare. Quindi si è proprio conquistata questo titolo e Paolo Furlani, il maestro Paolo Furlani le ha dedicato un carro ed è il carro del pupo che aprirà e dirigerà tutta la parata dei 14 carri che sfileranno nelle tre domeniche di carnevale. Ovviamente Stefano un weekend, tre weekend molto intensi, un programma veramente variegato dove effetto carnevale è un effetto capillare in ogni aspetto della società. Parliamo dalla sfilata dei carri ai laboratori per i bambini, alle mostre, al cinema, all'arte, alla cultura e non può mancare certamente la musica con il complesso della musica a vita. Quindi entriamo un po' nel merito del nostro programma molto intenso. Abbiamo iniziato già il 17 con la cena grassa. Sì un programma molto intenso, 56 eventi praticamente che vanno a coprire un solo mese, quindi diciamo un calendario molto molto ricco, iniziato mercoledì scorso appunto con la cena grassa dove grazie alla collaborazione di tanti fanesi non solo e naturalmente anche all'ente carnevalesca che ha deciso di mettersi al servizio di tutti gli intervenuti servendo la cena, si sono raccolti 4.507 euro che abbiamo devoluto alla messa di San Paterniano. Quindi anche come ente carnevalesca abbiamo deciso come sempre, come tutti gli anni, di impegnarci nel sociale e cercare di dare una mano ai più bisognosi. Naturalmente non solo questi eventi dove si mangia pur facendo sempre cose utili come la beneficenza ma anche momenti di divertimento e di storia come quello al Fano Center dove abbiamo deciso di dedicare una mostra al centenario della musica a vita. Quest'anno vogliamo chiudere appunto tutto il discorso del centenario con questa bellissima mostra che non finirà naturalmente il sabato che è passato ma avrà un appuntamento fisso tutti i giorni all'interno della galleria con tanto di flash mob, giusto presidente, flash mob dedicati proprio a questi musicisti, questo gruppo folkloristico fuori dalle righe e dagli spazi che tutti i sabati alle ore 11 farà un bellissimo flash mob all'interno della galleria. Ovviamente meritano un'attenzione particolare i carri, protagonisti indiscussi del Carnevale di Fano, quest'anno abbiamo 13 carri. Sì, sicuramente protagonisti indiscussi realizzati dalle tre associazioni dei nostri maestri carristi, Carnival Factory, Fantagruel e Goma Piuma per Caso. Quest'anno come già sapete abbiamo due carri di prima categoria nuovi che sono uno e ho visto l'AI che bacia lui che è sul tema dell'intelligenza artificiale, tema molto discusso in questo periodo di Mauro Chiappa e il Mangiasogni di Luca Vasilic. Abbiamo puntato quest'anno anche sui carri di seconda categoria, ritenendo che un'opera d'arte, se è un'opera d'arte, la differenza non la fanno le dimensioni ma la sostanza. Tant'è che abbiamo, appunto, oltre, come abbiamo detto, il pupo, chiamatemi direttore appunto dedicato a Mettrice Venezzi di Paolo Furlani, abbiamo un carro di seconda categoria dedicato alle maschere italiane, in particolare alle dieci maschere dei dieci carnevali che insieme a Fano, Fano, città capofila, stanno lavorando per la documentazione, memorandum di patrimonio immateriale dell'umanità. Sapete che il Comune e noi, in seconda battuta, stiamo lavorando, appunto, per diventare Carnevale patrimonio immateriale dell'umanità. Un percorso lungo, ma, insomma, intenso, ma che ci darà sicuramente grandi soddisfazioni. Ne abbiamo parlato anche con il Ministro e, insomma, sono tutti concordi che il Carnevale merita questo titolo. E quindi c'è questo carro che si chiama Jack in the Box di Valeria Guerra dell'associazione Gomma Piuma per Caso. E poi gli altri carri che avete visto l'anno scorso, non meno belli, anzi bellissimi, li abbiamo tenuti proprio perché bellissimi, The Dark Side, che è il carro dedicato a Pink Floyd e come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima, dedicato allo steampunk. E poi, ovviamente, il carro dedicato al Voulon, il carro della musica arabita, con quest'anno qualche accorgimento in più e tutti gli altri carri per una parata di 13 carri di tante mascherate, tutte realizzate dalle quattro fazioni fanesi che mai ci abbandonano, mai abbandonano il Carnevale, perché Fano deve fare il Carnevale, i turisti devono venirlo a vedere. Questo è un po' il nostro motto. Non solo coriandoli e filanti, ma anche dolciumi. Quest'anno 200 quintali di dolciumi, il famoso getto così atteso e così amato da tanti fanesi, ma vengono anche dall'estero per vivere questa emozione, perché, diciamocelo, è un'emozione stare sotto lì a recuperare il più possibile il bottino, ma crea anche caos e, come definisce un noto scrittore fanese Tombari, un momento goliardico, che ce l'ha solo Fano, il famoso riurgito presidente dei carri, dove questa macchina meravigliosa che lancia dolciumi a tutti gli spettatori. Ebbè sì, anche quest'anno arriveremo a circa 200 quintali di dolciumi. Abbiamo confermato la ditta dello scorso anno, perché è veramente stata top in toto, diciamo. C'è molto vicina, nonostante non sia fisicamente vicina, perché è della bassa Italia, ma è veramente una ditta a qualità prezzo molto elevata. E detto questo, sì, il lancio dei dolciumi, che anche qui comunque viene da ogni atto che è fatto al carnevale, è un atto storico, nel senso che arriva dalla storia. Nel Settecento, durante il periodo di carnevale, le zitelle osavano lanciare dei confetti ai ragazzi a cui erano interessate, quindi i ragazzi sapevano che potevano avvicinarsi a loro. E quindi da qui arriva il getto dei dolciumi. Quindi ecco, sì, è un momento molto goliardico e devo dire che le persone adulte sono quasi peggio dei bambini, che li scansano, ma delle cose succedono. Viene fuori proprio le persone vere, ecco, insomma. Io direi che è un'esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita. Assolutamente, assolutamente. Un programma intenso, abbiamo detto, che accontenta tutte le fasce, tutte le età, i bambini, adulti, appassionati di arte, di musica, di teatro. Presidente, possiamo entrare un po' nel merito di questo programma, dove le arti sono leggiate anche dallo stesso carnevale? Certamente, perché, come dico sempre, come diciamo sempre, la leggerezza non è superficialità e quindi attraverso la satira e l'ironia del carnevale si può raccontare la società. Abbiamo due mostre molto interessanti, una molto interessante, l'altra più goliardica, ovviamente, veramente. Una è Le cose di Andrea Giomaro, il grandissimo Andrea Giomaro, grande artista nazionale e internazionale, lui è un maestro degli effetti speciali, lavora per il cinema, come tutti noi sappiamo, e ci ha onorato di disegnare il nostro manifesto, che vedete anche dietro alle nostre spalle, e di allestire una mostra. Le cose. E io gli ho chiesto, ma Andrea, ma perché le cose? Eh vabbè, perché io faccio cose. Vabbè, di fronte a questo, vabbè, sei un mito. E quindi a Palazzo Bracci Pagani, che è il palazzo dove normalmente accogliamo la parte più, diciamo, culturale del carnevale, il 26 venerdì, 26 gennaio, alle ore 18, inauguriamo questa bellissima mostra. Poi c'è un'altra mostra molto più, però... Eh, diciamolo. Vabbè, lo devo dire, lo devo dire, lo devo dire. E proprio... Allora, il 27 invece inauguro la mia... dice, eh, ti fai la mostra da sola. Vabbè, ma insomma, io ho quasi duemila gomme da cancellare, che raccolgo da quando ho otto anni. Proprio io impazzisco, vado in giro per il mondo, cerco solo le gomme. Qui, vabbè, insomma, matta, così. E quindi era un sogno che dovevo colmare, quindi ho detto, ragazzi, mi fate fare la mostra delle gomme da cancellare? E mi hanno detto, vabbè, falla un po'. E quindi, insomma, una, l'ho intitolata, una sgommata con la Presidente, duemila gomme da cancellare, di Maria Flora Gianmarioli. E quindi... E che non si cancella mai niente, perché veramente il carnevale è storia, è storia per la città di Fano, è storia anche per la Presidente. È vero. Scusate, devo dire che ringrazio Claudio Pacifici, che mi aiuterà ad allestirla, e poi mi farà qualche domanda goliardica su il come ho iniziato a fare questa pazza raccolta di gomme da cancellare. Fine. Quindi, dall'arte, Stefano, passiamo anche allo sport. Allo sport, sì. Abbiamo tanti appuntamenti sportivi molto importanti, tra cui, diciamo, spiccano i principali, che sono il torneo carnevalesco di Touch Rugby, che ci sarà il 3 febbraio, sabato 3 febbraio, ore 11, al campo rugby Falcone-Borsellino. E ci sarà anche un torneo di tennis di carnevale al circolo tennis alle ore 16. Oltre a questo, Presidente, io direi che possiamo anche parlare di altri appuntamenti importanti dedicati, diciamo, non proprio allo sport, ma anche alla salute, perché abbiamo domenica 4 febbraio in bici con il Boulon, a cura di Fano Forbici, dove si partirà con questa pedalata tutta carnevalesca e in giro per la città. Quindi carnevale è anche sport e anche benessere? Assolutamente. Certo, uno mangia i dolciumi, poi dopo bisogna perdere qualche chilo e smaltire, quindi cerchiamo di trovare le soluzioni anche, oltre alle convenzioni col dentista, molto probabilmente che potremmo inserire. Oltre a questo, naturalmente, non mancherà tutto il discorso dei bimbi, molto importante, è un mondo che praticamente a noi interessa tanto, perché è da lì che parte, diciamo, tutto il discorso del carnevale, perché ci fa sentire bambini dentro, ma appunto è un appuntamento importante che per i più piccoli, che non si limiterà solamente alle sfilate alla mattina in Viale Gramsci alle ore 10, la sfilata dedicata ai più piccoli in collaborazione con le scuole, dove appunto questo corteo curato dalle nostre colleghe dell'ente carnevalesca, Sara Olivieri e Valentina Bernardini, che ci danno sempre un massimo supporto con le scuole, sfileranno tantissime classi, giusto Presidente? Sì, direi tutte le classi, qualcuna anche da fuori città, sì, è un momento molto sentito e molto bello. Abbiamo esagerato quest'anno, abbiamo proprio cercato di fare i voloni, abbiamo deciso di aprire questo percorso dedicato ai bambini il 28 gennaio, domenica, con l'apertura dell'area Kinder, che sarà nella zona Pincio dalle ore 10. Quest'anno famoso partenariato con la Kinder? Sì, molto importante per l'ente carnevalesca, perché ci dà un respiro nazionale e non solo, comunque cioccolata molto importante e conosciuta da tutti, quindi questo spazio con anche animazione sicuramente non lascerà dell'uso i nostri piccoli. Tanti appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, Stefano? Sì, per i più piccoli abbiamo pensato degli appuntamenti dedicati. Il 6 febbraio, il 10 e l'11 a Palazzo Bracci Pagani ci sarà un appuntamento con i mattoncini Lego, a cure di Marche Brick, un appuntamento molto divertente dove i più piccoli potranno costruire con i famosi mattoncini dei carri allegorici. Altri appuntamenti importanti, sempre in tema di collaborazioni con la città, sono quelli con il Cinema Masetti, che tutti i venerdì ha deciso di proiettare un film per bambini seguito da una simpatica merenda. Sempre un appuntamento importante al Cinema Masetti sarà quello di sabato 10 febbraio dedicato al progetto Rosita nelle scuole, giusto Flora? Giusto, è un progetto molto carino e in collaborazione qui torna il Film Rouge con Roma con l'Agenzia Spaziale Italiana, con cui abbiamo collaborato anche l'anno scorso, e l'Università La Sapienza di Roma, appunto Rosita, che è questo rover spaziale, un rover che va su Marte e che ci presenterà che cosa fa sul terreno marziano. Ovviamente è un progetto iniziato alcuni mesi fa, a cui hanno partecipato i ragazzi e gli insegnanti delle scuole del nostro territorio e questo è l'evento finale e quindi vi invitiamo perché è veramente curioso vedere Rosita come si muove sul terreno marziano. Sì, e naturalmente poi non mancherà insomma anche il contatto con quello che è il centro storico e tutto il comparto del commercio. Grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria abbiamo deciso anche quest'anno di proporre il pomeriggio dei colori, quindi con questa bellissima sfilata di carri lungo Corso Matteotti con un arrivo in piazza 20 Settembre animato dal gruppo Zebra 3. Quindi ci sarà da divertirsi tantissimo dalle ore 16 di sabato 10 febbraio e quindi vi aspettiamo numerosi. L'altro, citiamo l'altro partner dell'edizione di quest'anno è anche Trenitalia, presidente. Sì, abbiamo un'importante convenzione perché il Carnevale di Fano è dolce, è vero, ma cerca di essere anche ecologico e quindi insomma chi arriverà al Carnevale in treno avrà delle scontistiche sul biglietto. Quindi insomma piano piano cerchiamo di diventare sempre più ecologici e insomma miriamo a quello come tutta la società mira piano piano a quello e quindi è giusto che sia così. E se a Carnevale non si danza, non è Carnevale. Abbiamo un'area dedicata anche alle danze popolari precisamente il 13 febbraio martedì 13. Giusto, presidente? Cosa succede questa giornata? Allora, il martedì 13 è il martedì grasso, è la giornata di chiusura del Carnevale e quest'anno l'abbiamo pensata un po' diversa. Un po' diversa perché abbiamo voluto recuperare anche la sacralità del Carnevale. Quindi la giornata, tant'è che l'abbiamo chiamata martedì grasso tra sacro e profano. Perché tra sacro e profano? Perché ci sarà una parte profana di danze popolari, il saltarello marchigiano a cui la regione ha dedicato anche una legge, e la pizzica. Beh, per il saltarello marchigiano capirete è marchigiano, quindi si capisce perché l'abbiamo invitato. La pizzica, vi domanderete perché la pizzica? Perché a Fano è nata, ormai mi pare vent'anni fa, la prima scuola di pizzica. E abbiamo qui a Fano un danzatore, un semiprofessionista, con sindrome di Down. Quindi ci sembrava opportuno e bello dare anche questo segnale. Tant'è che la settimana dopo, il 17, saremo a Putignano, loro chiuderanno appunto il 17 il Carnevale, saremo appunto a Putignano con la pizzica e il saltarello, con una collaborazione che ormai dura da tanti anni e quindi esporteremo il nostro saltarello e porteremo la nostra pizzica con questo danzatore giù da te, mi viene da dire. Certo, io con un grande orgoglio posso dire che essendo metà fanese, metà pugliese, devo far presente, insomma, presidente a chi ci sta ascoltando anche in questo momento, che con grande onore e orgoglio ho scoperto che i maestri cartapestai di Fano andavano a insegnare ai maestri cartapestai di Manfredonia 70 anni fa. Quindi questa cosa, questo gemellaggio, questo fil rouge con la mia terra mi fa veramente piacere. E di fil rouge abbiamo anche con la Capitale quest'anno, siete stati anche a Roma a presentare il Carnevale, ci sono delle diverse collaborazioni con l'Accademia di Roma, ecco, se possiamo entrare un po' più nel particolare. Sì, quest'anno c'è un fil rouge con Roma, abbiamo presentato il Carnevale di Fano appunto all'ENIT, l'ente nazionale per il turismo a Roma, e Roma ritorna anche nel giovedì grasso con uno spettacolo dell'Accademia internazionale di teatro di Roma, Sinfonia Clown, uno spettacolo di clownerie appunto per la giornata dedicata ai bambini, ritorna con, sempre giovedì grasso, con la danza del voulon a cura di un'associazione che è Danza Oggi di Roma, che è un progetto legato anche a dei finanziamenti con la regione Marche. Roma ritorna il martedì grasso con appunto, e chiudo la chiacchierata che facevamo prima sul martedì grasso, sulla parte sacra del martedì grasso, quando appunto dopo le danze popolari andremo tutti in Duomo per ascoltare una compagnia teatrale di giovani attori professionisti di Roma, con sede a Roma, che si chiama Ex Novo, che presenteranno uno spettacolo corale, intendo quindi recitato in coro, di alcuni testi di Thomas Eliot, grandissimo autore, che scrisse dopo la sua conversione. Tra cui il testo mercoledì delle ceneri, quindi per poi tornare tutti in piazza e bruciare il pupo. Quindi ecco, una martedì grasso un po' particolare. Sì, direi molto particolare. Tornando al volto della madrina di questo Carnevale 2024, Beatrice Venezzi, è dedicato anche uno spettacolo a teatro il 9 febbraio. Quindi importanti personaggi anche nel mondo della musica, insieme a Davide Alognia, il violinista solista, che insomma il Teatro della Fortuna ospiterà questo spettacolo. Sì, Beatrice Venezzi, appunto il venerdì sarà a Fano per un concerto, dirigerà l'orchestra sinfonica Rossini, ringrazio il maestro Salus Alucci per averci dato questa opportunità, e la presidente Katia Amati della Fondazione Teatro. E poi il direttore Venezzi si fermerà fino a domenica al nostro Carnevale, starà su un carro con noi, gli faremo provare anche l'emozione di gettare i dolciumi sulla folla. Ecco, quindi entrare proprio nel momento vivo proprio del Carnevale. Sì. Un programma davvero ricco e svariegato. Dove è possibile trovare una brochure con tutte le informazioni? Sicuramente sul sito, ma il cartaceo? Perché a noi ci piace il cartaceo, presidente, bisogna leggerlo, bisogna sottolineare. Dove possiamo recuperare questo? Il cartaceo sicuramente si può trovare in tutti gli infopoint e anche all'OIAT di Fano, ma naturalmente abbiamo fatto una grande distribuzione in tutta la città, quindi è possibile trovarlo praticamente dappertutto, anche perché è talmente ricco che dirlo in pochi minuti sarebbe difficile. Però mi piacerebbe anche ricordare qualche appuntamento molto importante, che è anche segno di collaborazione con delle realtà locali che ci stanno tantissimo vicino, quindi è anche l'occasione per ringraziare un po' tutti gli sponsor, i partner che sostengono il Carnevale e senza di loro non si potrebbe fare questa manifestazione. Quindi direi di partire con gli eventi, diciamo, dedicati al divertimento. Quest'anno, oltre alla cena grassa, tutto il divertimentificio, diciamo così. Brutto. Brutto? Brutto. Dimmelo a te, dai, di un po', come lo possiamo fare? Divertimentificio. Prova a dirlo a te, divertimenti. Non mi viene, guarda, non mi viene neanche. Non è che brutto, è che non riesci a dirlo. Non riesco a dirlo, divertimentificio. Non è per tutti, non è per tutti. Per noi giovani il divertimentificio sappiamo che lo possiamo trovare a Villa Piccinetti. Villa Piccinetti, il nostro partner, dove praticamente tutti i weekend ci saranno delle cene spettacola, tema carnevalesco, dove ci si potrà divertire e sfilare naturalmente in costume. Ma la nostra veglione ufficiale? Il nostro veglione ufficiale è sabato 10 febbraio, ore 20, 00, dal titolo Don't Disturb. Dillo a te, che sei più English, più professional. Don't disturb. Don't disturb. Don't disturb. Ok, oh yes. Oppure disturb, io direi più disturb, più che not disturb, quindi disturbate. E mi aggancio a questa parola disturb per dire che l'ultima e grande disturbo è lunedì 12 febbraio il classico consiglio comunale del carnevale, perché come sapete giovedì grasso il sindaco cederà i poteri al sindaco del carnevale. Quest'anno il sindaco del carnevale, tadadang, è Rabachenn, la maschera di Pesaro. E quindi, anche qui, perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché quest'anno Pesaro è capitale della cultura, perché volevamo in qualche modo omaggiare questa cosa, siamo così vicini e quindi il Bulon e il Rabachenn si sono incontrati. Devo dire che Rabachenn molto carinamente ha detto grazie, non me lo sarei mai aspettato. Beh, immagino, e quindi ci sarà questo consiglio comunale del carnevale nella sala del consiglio, appunto, e quindi ecco, insomma, volevo ricordare questa cosa che secondo me è molto simpatica e goliardica e senza nessun campanilismo, ecco. Perché la cultura del carnevale è una cultura molto sentita, non solo da Fano, ma ovviamente è conosciuta in tutta Italia e anche tutto il mondo. Certamente, poi il periodo carnevalesco è il periodo che azzera gli stati sociali, chi è ricco, bello, brutto, ma siamo tutti nella stessa condizione e quindi dobbiamo approfittare in questi momenti di fare anche pace qualche volta. E in questo bellissimo viaggio fuori dagli schemi e fuori dai confini, cosa dobbiamo portare in valigia? Cosa dobbiamo portare in valigia? Questa è una bella domanda. Dobbiamo portare in valigia un cuore leggero. Dobbiamo portare in valigia l'idea di divertirsi con intelligenza e dobbiamo portare in valigia l'idea che qualche volta forse disturbare dà la possibilità anche di pensare, insomma, non omologarci. Stefano, nel tuo bagaglio invece per questo carnevale cosa porterai? Tanta leggerezza, tanto divertimento perché è il momento per cercare di abbandonare tutti i problemi e tutti i pensieri e divertirsi. Dedicarsi a un momento in cui si è tutti amici, ci si vuole tutti bene, unire le famiglie, i bambini, stare tutti insieme e festeggiare, un momento di divertimento. E poi dopo si può tornare alla normalità, finito il carnevale, sempre però non dimenticando che la vita è una sola, bisogna divertirsi e bisogna essere molto, molto leggeri. Dai, non posso più litigare con te in questo periodo? Questo chi l'ha detto? Noi non facciamo testo, no, no, io e te, io e te. Allora, prima di litigare il presidente, il vicepresidente, io chiederei a voi il modo per accedere al carnevale per chi ci sta seguendo per partecipare alle feste del carnevale. In che modo? Acquistando i biglietti? Tesserandoci? Allora, il modo più semplice è quello di tesserarsi. Il tesseramento al costo di 15 euro, in cui grazie alla partnership con lo spazio Kona, 10 euro verranno subito rimborsati e permetteranno di andare a fare la spesa, quindi pagare la tessera solo 5 euro, allora hai la possibilità praticamente di accedere al carnevale a solo 1 euro a domenica. Quindi questa diciamo che è la parte più semplice, quella più economica. Se no, l'altra opzione è quella di decidere all'ultimo, acquistare biglietti online piuttosto che in biglietteria, alla modica cifra di 15 euro a domenica, giusto presidente? E in prevendita a 13 euro. Quindi diciamo che consigliamo tutti di fare la tessera, non solo per una questione di risparmio, ma anche per sostenere una manifestazione che è la principale del nostro comune e della regione Marche, quindi un po' di campanilismo qua ci vuole, lasciamolo dire Flora. Quindi bisogna chiedere a tutti i fanesi di sostenere il carnevale, come stanno facendo tante aziende, e darà la possibilità di far crescerlo sempre di più. E quest'anno non può mancare certamente la lotteria del carnevale. La lotteria del carnevale è importantissima anche questa, e anche qui diamo sostegno a tante associazioni fanesi, perché una parte del ricavato andrà in beneficenza appunto alle associazioni che hanno deciso di vendere i biglietti lungo il percorso e non solo, infatti li troverete un po' in giro per la città tutti i giorni a vendere i biglietti, e farvi tentare la fortuna cercando di vincere il primo premio, che è una bellissima crociera per due persone, offerta dall'agenzia viaggi Ujara Travel. Vogliamo dire che la lotteria, l'estrazione la verremo fare qua da voi? È certo. È diciamolo, dai. Sì, perché alle ore 21 della sera di martedì grasso saremo qui ad estrarre la crociera e tutti gli altri premi che potete ovviamente vedere sul sito, quindi andate sul sito, mettete mi piace sulla pagina Facebook e su Instagram, e seguite il Carnevale di Fano. Ovviamente vogliamo ringraziare tutti i consiglieri dell'ente carnevalesca e tutti i collaboratori, noi perché siamo sempre davanti il front office. I buloni, noi siamo i buloni. Noi siamo i buloni, però dietro ci sono tante persone che lavorano tantissimo per questo Carnevale, quindi le ringraziamo. Cristina Fenocchi, Alessandra Paterniani, Danilo Trastulli, Daniele Carboni, Enrico Tosi, Filippo Rosati, Massimiliano Barbadoro, Gloria Riberti, Giannetto Paluzzi, Lucia Vicini, Sara Olivieri, Raffaella Manna, Saul Salucci, Alessandro Giuseppi, Valentina Bernardini, Gianluca Ruscitti, Giada Ogolini, Tatiana Tonnini, Giancarlo Panzieri, Maurizio Misuriello, Fiorenzo Scarlatti, Rita Manzini, Lorenzo Chialini, Stefano Virisola, ci sono anche io sì, e la grandissima Presidente Maria Flora Gianmarioli. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Vi aspettiamo il Carnevale il 28 gennaio, 4 febbraio e 11 febbraio, non mancate, mi raccomando. Ciao, buon Carnevale. Buon Carnevale a tutti. Buon Carnevale a tutti.